79 anni italiana e vive in paese. Ha un nome e un volto la colpevole dei ripetuti furti di fiori dalle tombe del cimitero di Carmignano di Brenta. La donna è stata identificata grazie alle telecamere installate all'interno del Camposanto e dopo le segnalazioni dei cittadini, sconcertati nel trovare le tombe dei loro cari, suotate da ciò che avevano usato per decorarle. Un atto deprorevole che siamo riusciti a individuare grazie alle segnalazioni di molti concittadini, ma soprattutto grazie alle prechiature stabili e fisse che abbiamo collocato all'interno del cimitero capoluogo, ma anche quello della frazione. Una vicenda che mette in evidenza l'importanza della videosorveglianza come strumento di prevenzione, controllo e tutela dei cittadini, continua Pasqualon. A Carmignano sono circa 60 le postazioni di controllo con videosorveglianza. Altre cinque sono mobili per monitorare situazioni sensibili, come è stato fatto nei due camposanti. L'anziana ladra al momento non risulta denunciata. Grazie. Grazie.